lettere lucidio libro secondo 13 anche prima che temprassi il tuo spirito con insegnamenti salutari e utili per superare le avversità della vita eri piuttosto soddisfatto del tuo atteggiamento di fronte alla sorte e ancor più lo sai ora dopo averla affrontata con decisione e dopo aver provato le tue forze in queste non si può mai confidare con sicurezza finché non si presentino numerose e talvolta incalzanti difficoltà da ogni parte finché non si presentino numerose e talvolta incalzanti difficoltà da ogni parte così si sperimenta il coraggio vero che non è sottoposto all'arbitrio altrui è la prova del fuoco un atleta non può combattere con accanimento se non è già livido per le percosse chi ha visto il proprio sangue ha sentito i denti scricchiolare sotto i pugni chi è stato messo a terra e schiacciato dall'avversario e umiliato non si è perso d'animo chi si è rialzato più fiero dopo ogni caduta va a combattere con buone speranze di vittoria quindi per continuare con questo paragone molte volte ormai hai subito l'assalto del destino tu però non ti sei arreso ma sei balzato in piedi hai resistito con maggior fermezza il valore quando è sfidato si moltiplica tuttavia se credi accetta le armi di difesa che ti offro sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano effettivamente lucilio mio e spesso soffriamo più per le nostre paure che per la realtà non ti parlo con il linguaggio degli stoici ma in tono più sommesso noi definiamo poco importanti trascurabili tutte le avversità che ci strappano gemiti e lamenti tralasciamo queste parole magnanime ma buon dio vere ti raccomando solo di non essere infelice anzitempo le disgrazie che hai temuto imminenti forse non arriveranno mai o almeno non sono ancora arrivate certe cose ci tormentano più del dovuto certe prima del dovuto certe assolutamente senza motivo quindi o accresciamo la nostra pena o la anticipiamo o addirittura ce la creiamo il primo punto per il momento rimandiamolo il problema è controverso e c'è una discussione in corso quei mali che io avrò definito trascurabili tu li giudicherai gravissimi certi ridono sotto i colpi di frusta altri invece gemono per un pugno vedremo in seguito se quei mali hanno forza per loro stessi o per la nostra debolezza se chi ti sta intorno vorrà persuaderti della tua infelicità promettimi di badare non a quello che ascolti ma a quello che provi e di decidere in base alla tua fermezza chiedi a te stesso che ti conosci meglio di tutti perché costoro mi compiangono perché stanno in allarme perché hanno paura anche di toccarmi quasi le disgrazie fossero contagiose è veramente un male o più che un male si tratta di una valutazione errata chiediti forse mi cruccio e mi affliggo senza motivo e mi creo un male che non esiste in che modo domandi posso capire se mi angustio a torto o a ragione eccoti una norma per stabilirlo o ci tormentiamo per il presente o per il futuro o per entrambi del presente è facile giudicare se sei libero sano e non subisci dolorose violenze guarderemo al futuro oggi non c'è motivo di crucciarsi ma ci sarà innanzitutto considera se ci sono sicuri indizi di un male prossimo in più delle volte infatti stiamo in ansia solo per sospetti e ci facciamo gabbare da quelle dicerie che riescono a determinare la sorte di una guerra e che a maggior ragione determinano la sorte dei singoli è così mio caro crediamo facilmente alle supposizioni non mettiamo a fuoco le cause delle nostre paure e non ce le scuotiamo di dosso ci agitiamo e voltiamo le spalle come soldati che abbandonano l'accampamento per il polverone sollevato da un branco di pecore in fuga o come quelle persone che si lasciano spaventare da racconti di cose prive di fondamento e di cui non è noto nemmeno l'autore non so perché le paure infondate turbino di più quelle fondate hanno un loro limite tutto ciò che è incerto è in balia delle congetture e dell'arbitrio di un animo terrorizzato perciò niente è così dannoso così irrefrenabile come il panico le altre forme di timore sono irrazionali questa è nata esaminiamo perciò attentamente la questione è verosimile che in futuro accada qualche male ma non è proprio sicuro quanti eventi inaspettati sono accaduti e quanti attesi non si sono mai verificati e se anche capiterà a che giova andare incontro al dolore ti dorrai a sufficienza quando il male arriverà frattanto augurati il meglio che ci guadagnerai tempo possono intervenire molti fattori per cui un pericolo vicino oppure ormai prossimo si ferma o cessa o piomba addosso a un altro spesso in un incendio si è offerta una possibilità di fuga qualcuno è uscito illeso da un crollo a volte la spada è stata ritirata proprio al momento dell'esecuzione altri ha sopravvissuto al suo carnefice anche la sfortuna è mutevole forse sarà forse non sarà nel frattempo non è tu spera nel meglio talora benché non ci siano segni manifesti che preannuncino qualche disgrazia l'animo si crea mali immaginari o travisa in peggio a una parola ambigua o ingigantisce un'offesa ricevuta e pensa non a quanto l'altro è in collera ma a quanto è lecito a chi è in collera ma non c'è nessun motivo di vivere nessun limite alle sventure se si teme tutto quello che può accadere qui giova essere savi le spingi con forza d'animo la paura anche se motivata se no scaccia una debolezza con un'altra modera il timore con la speranza gli eventi temuti non si verificano e quelli sperati deludono è la verità più certa di tutte le nostre paure considera quindi speranza e timore e quando tutto sarà incerto favorisci te stesso credi ciò che preferisci anche se il timore avrà più argomenti scegli la speranza e metti fine alla tua angoscia rifletti che la maggior parte degli uomini si arrovella e si agita benché non ci siano mali presenti né certezza di mali futuri nessuno resiste a se stesso quando ha cominciato ad essere inquieto e non riconduce ai suoi timori alla verità nessuno dice mente o sarà inventato o crede a dicerie ci lasciamo trascinare dal vento temiamo l'incerto come se fosse certo non abbiamo il senso della misura subito un dubbio si trasforma in timore mi vergogno di parlarti così e di rincuorarti con rimedi tanto deboli un altro dica pure forse non accadrà tu di e se accadrà vediamo chi dei due avrà la meglio forse si risolverà a mio favore e una morte come questa darà decoro alla mia vita la cicuta rese grande socrate togli a catone l'arma con cui rivendicò la sua libertà togli a catone l'arma con cui rivendicò la sua libertà gli toglierai una gran parte di gloria ora ti sto facendo troppe esortazioni mentre tu hai bisogno più di essere ammonito che esortato non ti spingo a un comportamento diverso dalla tua indole hai disposto per natura a quello di cui parliamo tanto più dunque accresci ed esalta il bene che c'è in te posso ormai concludere la lettera se le imprimo il suo sigillo se le affido cioè una bella massima da riferirti lo stolto tra gli altri mali anche questo incomincia sempre a vivere considera il significato di questa frase mio ottimo lucilio e comprenderai quanto sia vergognosa la leggerezza di quegli uomini che ogni giorno pongono nuove fondamenta alla loro vita che nutrono speranze anche in punto di morte guardali uno per uno vedrai persone anziane che hanno mire ambiziose e si danno ai viaggi agli affari niente è più sconcio di un vecchio che voglio ricominciare a vivere non aggiungerei il nome dell'autore di questa frase se non fosse troppo poco conosciuta non fa parte di quelle più note di epicuro che io mi sono permesso di apprezzare e fare mie stammi bene